Salve, siamo alla manifestazione di Avesta con padre Patriciello, combattendo con la terra dei fuochi, in difesa della terra dei fuochi. A lui chiediamo un appello alle istituzioni intercreci, cittadini, a tutti che ci sono maggiori partecipazioni in difesa del nostro territorio. Il nostro territorio ce lo riprenderemo solamente quando scenderemo tutti quanti, quando diciamo addio alle comodità che si trasformano per noi e per i nostri figli solamente in morte. Il popolo è sovrano e quando si rende conto di essere sovrano e scende per la strada lo fare veramente tanto. Quindi anche i vostri abitanti di Bacoli e dei paesi d'intorno che scendessero per riprendersi la propria dignità, la propria esistenza e il proprio territorio. Anche voi, fratelli.